Cari piloti buongiorno, buongiorno dai veronesi, stiamo per andare al circuito di Cremona, oggi è il 5 dicembre, siamo pronti per il test invernale sulle pit bike, consueto evento che si svolge una volta all'anno in prossimità del Natale, quest'anno siamo sempre meno, 4, pensate da un gruppo così numeroso siamo solamente in 4 io e il Puccio pronti, adesso troveremo Roby e Ale che ci aspettano in circuito e poi vi faremo vedere che cosa succederà, un saluto dai veronesi e ci vediamo a Cremona, ciao! Ragazzi siamo qua con il professionista, io sei Alberto Nasca? No è lui il Nasca di domani, lui è l'originale Lorenzo Concari, oggi lui e i suoi soci pensano di andare a divertirsi, hanno già parlato di Transponder, vediamo a fine giornata cosa succede Lascio a Lorenzo il privilegio di postare l'ultimo nostro video perché dopo la giornata di oggi in pit bike resteranno ceneri, no ne resterà uno solo, vivo! Ragazzi primo turno L'ho fatto un po' sulle uova in punta dei piedi perché non si capiva esattamente com'era Anche rotte le uova Mi piatto perché non ha trovato il punto di frenata Ale ci ha fatto subito una crepe, però insomma un assaggio va benissimo C'è poco da ridere perché voglio vedere chi alla fine della giornata non fa una fritta Non ha fatto niente Ma insomma, siccome si sono scalgiate un pochino, non male, dai vediamo, vediamolo Ciao! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.